Eccoci qui, questa è probabilmente un'altra parte delle mie librerie che mancava ancora dai video che avevo girato in precedenza e come potete vedere è molto etereogeneo, qua abbiamo la raccolta dei miei segnalibri preferiti, molti dei quali presi alla fiera di Torino, vari portagiai e qua abbiamo due volumi della versione inglese di Anna dai capelli rossi, abbiamo Anna dai capelli rossi, il primo libro e poi abbiamo, no aspetta questa non è Anna dai capelli rossi, questo è Piccole donne e questo in inglese che è un regalo di una mia amica, poi abbiamo alcuni romanzi in lingua inglese usati, abbiamo uno di Maggie Osborne che io sapete già che adoro Maggie Osborne, ve l'ho già nominata diverse volte The Best Man e quello è Past Promises di Jill Mary Landis, se non mi ricordo male, anche questi sono due ambientati nell'ottocento del, cioè fine ottocento nel West, poi abbiamo due romanzi di Mark Levy, Sette giorni per l'eternità e La prossima volta, anche lui è un romantico, abbiamo un po' la zona romance, L'anello dello segnale di Barbara Wood, anche questo carino, Il tempo dei sogni, questo è ambientato in Australia ed è un romance onirico, che voi direte cos'è un romance onirico, ecco questo lo è perché è veramente strano, non è tra i miei preferiti di Barbara Wood, diciamo così, però va premiato per la stranezza della trama, poi abbiamo La sposa normanna di Carla Maria Russo, questo invece è un romanzo storico, anche questo è un regalo di una mia amica, poi abbiamo Della Alcott, sempre l'autrice di piccole donne, una ragazza fuori moda che è veramente veramente carino, cioè non è famoso come la sua opera principale, piccole donne, ma meriterebbe di esserlo, è veramente carino, poi cosa abbiamo? Anche questo un altro romance, poi di Deborah Hall, La nave delle spose, anche questo è sempre sulle spose per corrispondenza, carino, di Robert X, Una carezza nella polvere, poi abbiamo La rilegratrice di libri proibiti, qua abbiamo un altro storico, e poi abbiamo quello di cui vi parlerò nel prossimo video, cioè i libri di Angelica, della serie di Angelica, devo spostare tutta la baradana, scusate, ma io lo so che ho un sacco di roba qua, vedete, La Marchesa degli Angeli e un altro volume della lunga serie di Serge e Angolon, da cui furono tratti i libri degli anni 60, i film degli anni 60, che veramente merita, ho solo due volumi, il resto ce l'ho in ebook, in parte, ma non ho tutta la serie effettivamente, questo è un pupazzino di Buffet Danger che ho preso a New York, poi abbiamo due bassottini, la famosa collana gialla classica, morte in ascensore e l'uomo nella cuccietta numero 10, ok, poi abbiamo altri due romance, il marchio del fuoco di, sì qua devo spostare un po' di roba, ah, qui ho un mio pop, allora, vediamo, un mio pop fungo di Buffy the Vampire Slayer, questo è il personaggio di Angel, sempre da Buffy the Vampire Slayer, adoro, spostiamoli, allora, poi cos'abbiamo, il bianco del fuoco, che anche questo comunque è un romance di, ah, mi riesco a leggere l'autore, ah sì, Susan Wicks, anche lei è famosissima, Susan Wicks, poi di LaVeer Spencer, The Gamble, L'Azzardo, anche questo, questo è veramente, veramente bello, non è entrato nella mia top 10 dei romance, giusto perché non avevo più posto, se volevo che fossero 10, ma è uno dei miei romance preferiti, anche questo, però dovevo fare una cernita e lui è finito un po' dopo, però è veramente bello, gli devo trovare un posto più in pole position perché in questa libreria, poverino, Langue, poi abbiamo una con un libro di Asimov, ma giallo, è la sua collana gialla, non è la sua collana di fantascienza, quella ce l'ho nell'altra libreria, e poi abbiamo la mia collezione di gialli di Agatha Christie, ok, che io non ho, beh, ho neanche uno di Mickey Spillane, ma è l'unico perché non lo amo tanto, e di Agatha Christie, voi penserete che abbia tutto di Poirot? No, io ho quasi tutto ciò che non è Poirot e non è Miss Marple, sì, poi ne ho qualcuno, per esempio, se mi risse mio marito è troppo facile, è Poirot, Poirot Sannaia, vedete, ne ho qualcuno di Poirot, ma ho quelli, soprattutto ho collezionato quelli che non rientrano nelle sue serie di investigatori famosi, cioè quelli senza un investigatore principale, Parker Pine, Il mondo in pericolo, anche questo è un titolo di Agatha Christie molto sottovalutato, ma che secondo me sarebbe potuto, allora, parliamoci chiaro, cioè, io lo so che sarà poco popolare con questa opinione, ma perché stanno rifacendo i film tratti dai libri di Agatha Christie, da cui era già stato tratto un film, cioè nel senso hanno rifatto Assassino sull'Oriente Express, che era già stato fatto più alto, adesso stanno per rifare, sta per uscire con Gil Gadot, Assassino sul Nilo, cioè, perché ci sono tanti libri di Agatha Christie che non sono mai stati trasposti in film, prendevano un altro dei suoi libri, ok, e facevano un film nuovo, cioè, perché fare, rifare i film che sono già stati fatti, perché è più facile, a me viene da dire questo, perché non vedo degli altri motivi, ad esempio, Il mondo in pericolo, dove c'è tutta una cosa di spie, però carino, anche ironico, con una protagonista donna, poi c'è anche un po' una storia d'amore, eccetera, il mondo in pericolo, oddio mi è crollato tutto, il mondo in pericolo sarebbe stato un fantastico film, cioè, perché non fare questo, cioè, o anche, aspetta cos'era l'altro, beh, dai sette quadranti è già stato tratto un film, ma solo uno e non così famoso, quindi poteva anche essere questo, essere usato per un film, l'uomo vestito di marrone, un film c'è già, per fortuna, ed è molto carino, io ve lo consiglio, vi metterò le informazioni nell'info box del film, l'uomo vestito di marrone, quindi perché non fare un film da questi, cioè, perché, e anche, sempre di Agatha Christie c'era una volta, anche questo, cioè, allora, hanno fatto un film, anche qui, scusate se questo libro è un po' messo male, ma, e qui, per esempio, ci sono tre, tre, tre libri, cioè, questo qui conterrebbe tre libri di, di questi piccoli, ok, c'era una volta un cavallo per la, per la strega e passeggero per Francoforte, allora, tre romanzi, anche questi senza Poirot, senza Miss Marple, è molto, molto bello, allora, c'era una volta e ambientato nell'antico Egitto, si sarebbe prestato benissimo, cioè, poi, tra l'altro, anche, veramente, un mistero giallo, che è difficile intuire fino alla fine, ed è fantastico, cioè, io non so perché non l'hanno fatto, il film da questo, e anche, passeggero per Francoforte, questo può darsi che da passeggero per Francoforte, in inglese, fin ci sia, io, però, che l'abbiano fatto, tipo, negli anni trenta, quaranta, cinquanta, cioè, e che sia vecchio, che io non lo so, perché è impossibile che non abbia fatto un film su questo, perché questo si presta talmente tanto a farne un film con le spie, che è veramente, mi rifiuto di credere che gli inglesi non ne abbiano fatto un cortometraggio su questo, però forse non è mai arrivato in Italia, e invece, gli americani hanno deciso di fare questo, in film, un cavallo per la strega, gli hanno dato un altro titolo, che adesso non mi ricordo, io l'ho voluto guardare, l'ho trovato in streaming, su un canale, insomma, eccetera, e praticamente, dopo, dopo che l'ho visto, mi son detta, allora, aspetta un attimo, cioè, ma, non è che la mia memoria mi sta giocando qualche brutto scarso e non ricordo il libro, perché il film e il libro, cioè, si assomigliavano solo nel nome dei personaggi, quasi, e nei luoghi, dopo tutto quello che è successo, sì, volendo, qualcosina della trama, c'è, ma proprio, se la vogliamo prendere con le pinze, cioè, hanno stravolto completamente dando tutto un taglio psicologico della pazzia, cioè, a sto libro, che non è così, questo è un classico giallo di Agatha Christie, cioè, normale, ok, me l'hanno voluto fare una roba, veramente, cioè, allora, piuttosto che mi stravolgano così, è meglio che non gli facciano i film su Agatha Christie, però se li vogliono far bene, come li sta facendo che è nebrana, che comunque, cioè, a me piace come regista, ma scegli uno degli altri libri di Agatha Christie, cioè, io poi qua non li ho tutti, cioè, ne ho un, cioè, ce ne sono tanti altri, questo è il mio minimo che ho qui, cioè, ma già tra questi, già solo con Parker Pine, Parker Pine indaga, ci potrebbero fare una serie tv. Il terrore viene proposto, ci hanno già fatto due, tre film, ma quelli da videocassetta o da televisione, ma comunque li hanno fatti bene, lasciamolo com'è, ma Il mondo è in pericolo, o Passeggero per Francoforte, o I Sette Quadranti, che comunque è il film che ne hanno fatto, che ne hanno tratto, è molto vecchio, cioè, ma questi ne sarebbero usciti dei film fantastici, cioè, ma perché non li fanno? Vabbè, ho degli attimi di ribellione cinematografica, ah, questo è un libricino, vedi, la vita, la guida alla vita di I Love Lucy, che è un telefilm degli anni, inizio anni 50, di cui io sono una super fan, e che una volta davano in tv, ma adesso ho recuperato in inglese, e lo guardo in inglese, perché ci sono tutti i dvd, e poi cos'è che ho? Ah, questo, Jane Austen Little Instruction Book, eccolo qua, che mi hanno regalato, eccolo qui, eccolo qui, vedete, contiene introduzione, woman, man, relationships on simple rules, life lesson, vedi, sono le osservazioni di Jane Austen prese dai libri riguardo gli uomini, la vita, vedi, l'entusiasmo dell'amore di una donna va persino oltre quello del biografo, se una donna dubita se accettare o meno un uomo, certamente lo dovrebbe rifiutare, perché se esita a dire sì, sicuramente dovrebbe saper dire no direttamente, questo è preso da Emma, dal libro Emma, e sono tutte delle citazioni dai libri di Jane Austen, vedete Pride and Prejudice, è un altro da Emma, è veramente veramente carino, veramente carino, ecco, lo rimettiamo apposta nel suo angolino, e anche questo, queste invece sono citazioni dal telefilm I Love Lucy, ed è carinissimo anche questo, a me piace, lo so è stupido, ma a me piace, e questi sono i, anche questi i personaggi di I Love Lucy, e Angel, e ci siamo, questo è lo scaffale che vi ho appena presentato, sopra invece nella stessa libreria abbiamo un po' più di eterogenità, abbiamo i miei libri di Michael Cripton, Jurassic Park, Il Mondo Perduto, Timeline, da cui sono stati tutti i tratti dei film che conoscerete sicuramente, qua abbiamo l'anno del contagio di Connie Willis, anche questo se amate Viaggi nel Tempo, i romanzi che parlano di Viaggi nel Tempo, questo è un must, sul mio blog trovate una lista di libri con Viaggi nel Tempo, e questo ne fa parte, e ve lo straconsiglio, tra l'altro è anche parte di una serie, ma è anche autoconclusivo, quindi avete la scelta se seguire tutta la serie o meno, questo è stato tradotto in italiano, e penso anche il secondo della serie, è stato tradotto in italiano, penso, se invece è disponibile in italiano solo il primo, gli altri li potete comunque recuperare in inglese, poi ho Susan Brockman, Il Cuore della Tempesta è un romance suspense, la Camera delle Signore rientrerà in un prossimo video dove parlo dei romanzi rosa medievali, la biografia della Regina Vittoria, perché a me piacciono anche le biografie, da qualche parte ho anche quella di Maria Antonietta, eccola, questa è quella di Maria Antonietta, no questa è Notre Dame, non so dove è quella di Maria Antonietta da un'altra parte, Cecilia Randall, il suo fantasy, Milegno di Fuoco, La vita di Maria Nocchia, questo è Padiglioni lontani di M.M. Caie, che è uno dei miei dieci romanzi preferiti di sempre e di tutti i generi, è un capolavoro da cui fu tratto anche uno sceneggiato negli anni 60, una roba imperdibile, questo va letto, ma ve ne parlerò approfonditamente anche in un'altra sede, poi cosa abbiamo? Abbiamo la Camera con Vista di Foster, la Spada Incantata della Bradley, che non so perché è fuori, cioè io ho la Bradley da un'altra parte, io penso che a breve questi scaffali saranno riordinati molto perché mi manca un po' di ordine, perché a me piace mettere tutti i romanzi di un autore insieme, invece li ho sparsi, infatti avevo Vento dell'Est là in fondo e qua c'è Padiglioni lontani e io li vorrei uno accanto all'altro e non so perché in un momento di pazzia non l'ho fatto, ma capita. Poi due romanzi della Rice che anche qui sono separati dai loro fratelli, questo è separato dai loro fratelli della Bradley e non so perché. Poi cos'ha? Allora, un Schiffy che però non mi era piaciuto tanto, un romanzo rosa, Ponte sull'eternità di Bach, Notre-Dame de Paris, due dei miei romanzi fantasy preferiti di sempre, anche questo è nella mia top ten dei libri che amo di più al mondo, Lo specchio dei sogni di Donaldson e il suo seguito, I cavalieri dello specchio, questo è un fantasy fantastico. Poi ho due libri di Sparks e qualche sceneggiatura teatrale, tra cui Miseria e Nobiltà e non so cos'altro. All'ultimo piano invece ho quelli di quando ero piccola, quindi ho tutta la serie di Senza Famiglia, Piccole Donne, Le favole di Emilia Una Notte, Tom Sawyer, Cuore, ho qualcosa di Sherlock Holmes e ho i miei classici greci di quando facevo il liceo classico, quindi tutta la letteratura greca, compreso un dizionario dei miti e le favole di Euripide e tante altre. Non sto lì a prendere la scala. Allora, questa è la presentazione della mia libreria, ah no, Betta manca, premio come un profumo di autrice per Life for Me che ho vinto a Cattolica qualche anno fa. Ci tengo veramente tanto perché Life for Me, che adesso si intitola L'accomodatrice, Life for Me è uno dei miei, dei romanzi che ho scritto, uno dei più famosi e quello che forse siamo di più insieme a Imprinting Love. Basta, cioè direi che qua finisce il nostro giro. Spero che questo piccolo tour della mia libreria vi sia piaciuto e vi saluto.